eccomi qui sono bello rosso rossissimo diventerò un praes sport o comfort a seconda di come mi vorrei 150 cavalli cambio dsg automatico sette rapporti ruote da 17 freni maggiorati e un sacco di cose che non sto a raccontare specchi elettrici retraibili con la chiave di avviamento o telecomando praticamente finestrini laterali apribili originali tutta la vetratura originale che poi verrà scurita acc cruise control adattivo che praticamente non mi manca proprio nulla e ho anche dei fratellini bianchi e grigi pronti per diventare anche loro braies braies facile braies sport braies comfort per cui io potrò essere un furgone come mi vedi qui a 47.500 euro potrò avere il tetto a soffietto fanno 8.500 euro in più potrò avere un arredamento facile e dentro da 6.700 euro potrò avere un impianto elettrico adeguato e potrò essere altrimenti braies sport e braies comfort per arrivare al vertice con braies comfort col bici l'acqua calda un sacco di belle cose batteria litio inverter è tutto quanto per arrivare a 86.800